L'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ha messo in evidenza, soprattutto nel periodo del lockdown, quanto sia importante avere a casa un accesso a internet che garantisca una buona connessione ed anche una strumentazione informatica in termini di PC e di tablet che sia adeguata. Tali strumenti, infatti, possono consentire ad esempio agli studenti di poter seguire le lezioni anche da casa, a distanza, e a chi lavora di farlo anche da casa. La presenza di una connessione a internet, che sia buona, di una buona strumentazione informatica, danno inoltre alle persone la possibilità di relazionarsi con amici, con parenti che non vivono con loro, di guardare film e di trovare tante occasioni di svago per il tempo libero. Analizzando le informazioni a disposizione sulla diffusione delle ICT in Italia, si osservano però molte differenze tra la popolazione. I dati riferiti al periodo 2018-2019, provenienti dalle indagini e aspetti della vita quotidiana degli Istat, mostrano ad esempio come circa un terzo delle famiglie non possiede nessun PC e tablet in casa. Tale quota è superiore nelle regioni del mezzogiorno, si arriva al 46,1% ed è pari al 39,9% nei comuni piccoli fino a 2.000 abitanti. Invece scende al 28,5% nelle aree metropolitane ed è più basso nelle regioni del nord. Ma come sono fatte le famiglie che non posseggono PC o tablet? Sono prevalentemente famiglie composte da anziani, il 70,6%, mentre la quota di famiglie senza PC e tablet scende al 14,3% se è presente in casa almeno un minore e si abbassa ulteriormente al 7,7% quando è presente in famiglia almeno una persona con un titolo di studio pari alla laurea, pari o superiore alla laurea. Se invece andiamo a vedere le famiglie che possiedono almeno un PC e tablet, osserviamo come il 47,2% possiede un dispositivo, mentre il 18,6% due o più dispositivi. La strumentazione informatica è più o meno adeguata ovviamente rispetto al rapporto che ci può essere tra il numero di PC e tablet presenti in famiglia e il numero dei componenti. Osserviamo ad esempio come solo il 22,2% delle famiglie possiede un PC per ogni componente, tale quota è un po' più elevata al nord, 26,3% e scende al 14,1% nelle regioni del mezzogiorno. Per quanto riguarda i ragazzi, i ragazzi in età scolastica tra 6 e 17 anni, possiamo osservare come il 96,1% viva in famiglie in cui è presente un accesso a internet, ma l'accesso a internet ovviamente non basta, infatti se consideriamo appunto i ragazzi in età scolastica, il 12,3% di loro non possiede nessun PC o tablet in famiglia, il 57% lo deve condividere con gli altri componenti e solo il 6,1% ha un PC a sua disposizione. I ragazzi adolescenti di 14 e 17 anni possono essere osservati anche rispetto alle competenze digitali che posseggono. In questa fascia d'età il 92% è un utente regolare di internet, cioè si è collegato alla rete almeno una volta negli ultimi tre mesi, una quota molto elevata. Ma se andiamo a osservare invece le competenze di questa fascia d'età, osserviamo come più dei due terzi non posseggono nessuna competenza digitale o hanno competenze digitale basse, infatti il 3% non possiede nessuna competenza digitale e il 34% possiede una competenza digitale molto bassa e una quota quasi analoga possiede una competenza digitale di base, quindi meno di un terzo dei ragazzi possiede una competenza digitale elevata. I dati che abbiamo analizzato ci consentono di dire che ovviamente l'accesso a internet da casa e la presenza a casa di PC o di tablet sono due degli elementi che possono consentire alla popolazione di poter utilizzare le nuove tecnologie. Tuttavia nel tempo notiamo sicuramente un miglioramento della situazione con una diminuzione delle famiglie che non posseggono PC e tablet, è un aumento di chi ha la possibilità di connettersi a internet. Ciò non significa che però questo valga per tutta la popolazione, si osservano ancora delle differenze tra i diversi target di popolazione e ci si augura che nel tempo i gap esistenti possano ridursi.